Musica Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona Il Centro per l'impiego dell'Albenga ricerca un responsabile per punto vendita di Alassio requisiti richiesti, auto proprio, turni diurni, notturni e festivi, conoscenza office, buona Contratto proposto, tempo indeterminato, full time Il Centro per l'impiego dell'Albenga ricerca un muratore per un'impresa edile della zona requisiti richiesti, possibilità di trasferte, patente di tipo B, esperienza nel settore tra i 2 e i 5 anni Contratto proposto, tempo determinato, full time Il Centro per l'impiego di Carcare ricerca un'impiegata per azienda requisiti richiesti, auto propria, scienza ottima delle pacchetto office, lingue inglese, buono, diploma, ragioneria Contratto proposto, tempo determinato, full time È possibile consultare sul sito della provincia di Savona, la voce formazione e lavoro, tutte le figure professionali degli iscritti e trecenti per l'impiego ed in cerca di lavoro Si tratta di un'importante innovazione nelle facilitazioni dell'incontro, domanda e offerta Le persone interessate alle posizioni lavorative offerte potranno dare la propria adesione alle richieste di lavoro Recandosi presso il Centro per l'impiego di appartenenza, munite di curriculum vita Da lunedì al venerdì alle 8.30, alle 12.30, al martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savona.it Grazie Grazie Grazie